Edifici, locali commerciali e studi professionali, il Fondo Pensioni dell'ex Sicilcassa mette all'asta il suo patrimonio del valore di oltre 110 milioni di euro. 12 stabili e 79 unità immobiliari per una superficie complessiva di circa 140.000 m2 sparsi per tutta l'isola saranno messi sul mercato con valori ridotti del 20% rispetto alle vendite degli anni precedenti. Il sistema sarà quello delle aste pubbliche, notarili e telematiche. A Palermo, fra gli edifici messi in vendita, ci sono il Palazzo di Dieci Piani, ad angolo fra Via Libertà e Via Cordova, dove ebbe sede la direzione ex Sicilcassa, la base d'asta è di poco superiore a 24 milioni. Poi lo stabile di Piazza Castelnuovo di fronte al Teatro Politeama, il Palazzo di Via Calvi, che ospita la soprintendenza ai beni culturali e l'agenzia di credito sul pegno dell'Unicredit. A Catania, invece, del patrimonio dell'ex Sicilcassa, andrà all'asta una porzione di Palazzo Tezzano, in via Etnea, del valore base di quasi 5 milioni di euro. A Siracusa, l'edificio ad angolo tra via Scala, Greca e via Lentini. E ancora immobili in vendita a Trapani, Cefaluc, Altanissetta, Messina e Milazzo. Le aste si terranno dal 27 giugno al 21 luglio. È possibile tuttavia formulare entro il 31 maggio proposte di acquisto per il prezzo a base d'asta maggiorato del 6%. A partire dall'1 giugno, inoltre, sarà possibile partecipare alle procedure avvalendosi anche del sistema telematico della rete Aste Notarini.